Allora come dicevate siete seduti vicini quindi credo che quello di oggi sia proprio un invito a collaborare tra due istituzioni che hanno un obiettivo comune appunto il benessere del cittadino e quindi in questo tavolo ad esempio che ha fatto la gara e che vuole sviluppare intelligenza artificiale sicuramente anche un rappresentante del garante deve esserci e la prossima volta vogliamo sentire che anche il garante è come l'ANAC e accompagna bene per cui non credo che sia colpa di nessuno credo semplicemente che è stata coinvolta all'inizio esatto privacy by design privacy by design credo che la cosa importante sia partire appunto con una collaborazione che veda il coinvolgimento del garante da subito riusciamo secondo voi? siete seduti vicini scambiatevi devo prendere il microfono sotto quella insegna che ho detto all'inizio cioè non posso non dire quello che penso la storia non è proprio questa nel senso che la doccia fredda di cui si parlava prima è una lettera con la quale si è detto abbiamo appreso dal sito internet eh dell'esistenza di una gara sull'intelligenza artificiale eh chiediamo informazioni con gesto forse di responsabilità forse di iper responsabilità non lo so non so se il ministero della salute o l'agenas o comunque eh entrambi hanno detto allora ci fermiamo eh ma naturalmente il garante si intanto che non c'è un trattamento di dati personali a volte è importante parlarsi si possono semplificare le cose allora questa è la parte della storia che io conosco ascolti allora lei si informi meglio ok io non metto i panni no però si no non metto i panni in piazza non pendi panni in piazza no l'ha appena fatto cioè il garante per la frase si dice non si può fare perché non c'è una legge eh cioè io non ho adottato nessun provvedimento il collegio del quale faccio parte non ha adottato allora il garante per la frase mi ha scritto a me sta richiedendo delle informazioni ha scritto a me manca la legge chiedendo delle informazioni poi no ma ascolti allora eh se invece di io potrei dirle come sono io potrei raccontarle come ma non racconto la cronaca però siccome abbiamo condiviso un dato cioè il garante per la frase si ha detto manca la legge allora il garante per la frase normalmente parla per provvedimenti non mi risulta ma potrei essermi distratto eh che il collegio abbia mai adottato un provvedimento di questo no questo tipo perfetto quello che mi risulta a me ma potrei essere certamente mal informato essendo a 15 minuti da dall'ufficio diciamo uscendo da qui la prima cosa che farò è recuperare questa informazione e che a un certo punto ha presa questa notizia della gara solo ed esclusivamente quella almeno questo mi pare eh il dato terminale gli uffici eh nella loro autonomia l'istruttore è sempre eh degli uffici hanno inviato una legge lettera onestamente non so perché appunto non la conosco eh nel contenuto ad Agenas e al Ministero della Salute per chiedere informazioni sui presupposti del trattamento dei futuri eh sui presupposti dei futuri trattamenti a valle dello sviluppo del sistema di intelligenza artificiale oggetto della gara stessa eh la risposta eh ricevuta da Agenas o Salute ripeto è semplicemente informazione e il mio possesso è questo forma oggetto della gara stessa cioè quando il vincitore di quella gara progetterà eh il sistema e progetterà gli algoritmi ci dirà anche come fare a quel punto quello che è stato detto ma questo è semplicemente quello che so io in in quell'auspicio diciamo di di conversazione eh di conversazione utile è stata no beh perché eh è il committente ed è quello che domani sarà il titolare del trattamento che nel famoso concetto del by design prima di bandire la gara eh dovrebbe sapere come con i sistemi eh rendere chiaro come con i sistemi oggetto della eh gara si tratteranno i dati personali sicuramente per le più nobili delle finabilità di 60 milioni di cittadini ecco questo è il pezzo della storia che conosco io poi mi mancano dei pezzi probabilissimo non sono affatto sorpreso esco da qui corro a recuperarli perché tutto voglio diciamo che senza dire ecco diciamo che se sta roba è servita a fare in modo che mettiamoci assolutamente mettiamoci seduti eh garante la privacy Agenas ministero della salute per definire prima le cose senza scriverci dopo eh eh modello ANAC e noi saremmo felici dopodiché altrimenti giochiamo così il cittadino vedrà che le istituzioni litigano ma il risultato è che non andiamo avanti credo che stiamo litigando credo che scrive però sì l'intento è proprio questo la gara è stata sospesa però è stata una scelta non del garante però avvocato scorso all'interno l'intento è proprio questo cioè che vi parliate prima ma io sono felicissimo anche del successo dell'ANAC tanto più che il presidente e l'ex segretario generale del garante per la privacy quindi insomma qualcosa avremmo imparato da chi oggi fa così tanto bene quindi lo faremo sicuramente seguiremo quell'esempio credo che all'ANAC sia stato chiesto eh prima sì però come nei matrimoni non so ecco non diciamo chi iniziate basta tutte e due ecco fatelo per noi fatelo per i cittadini quindi ci aspettiamo questo come risultato della giornata di oggi veramente un'interlocuzione by design appunto da subito grazie grazie per l'interessante spunto che ci avete che ci avete fornito grazie grazie